Musica Trasferta e ritorno in casa Stati, ancora da definire Meglio cominciare in casa, poteva andare peggio Con getture e rimpianti Stereotipi che seguono un sorteggio Svezia e Italia Allora, si temeva l'Irlanda Che affronterà la Danimarca, si voleva la Grecia Contro la Croazia L'ultimo accoppiamento, Irlanda del nord Svizzera, il primo commento Quando il nostro cd era Antonio Conte Le altre tre sfide dei playoff Europei saranno Croazia-Grecia Irlanda del nord Svizzera E Danimarca-Irlanda Rakha è caduta La capitale dell'Isis in Siria È stata espugnata dalle milizie kurde e arabe Con l'appoggio degli Stati Uniti Le bandiere bianche sono state Issate sull'ospedale sopra lo stadio Gli ultimi baluardi di resistenza La capitaleaudi di assistenza La capitale romzzere uno Con l'appoggio degli Stati Uniti Con l'appoggio degli Stati Uniti Grazie a tutti.